Salve a tutti e bentornati all'angolo della Libraia. Oggi parliamo del sesto romanzo sulle indagini di Kingston di Angela Marson, Le verità sepolte. Angela Marsons è una scrittrice inglese di mezza età. Vive con la compagna, un labrador ed un pappagallo nella Black Country, una regione dell'Inghilterra centrale connotata da miniere e centri siderurgici. Ha scritto per anni ma è rimasta a lungo ignorata dagli editori e si è dovuta accontentare delle autopubblicazioni. Tuttavia, anche grazie al costante sostegno della compagna, non ha mai gettato la spugna e alla fine la sua tenacia è stata premiata. Il suo romanzo d'esordio, Urla nel silenzio, ha scalato tutte le classifiche internazionali e, nella versione digitale, ha venduto quasi quanto La ragazza del treno, uscito il medesimo anno. Anche secondo, terzo, quarto e quinto libro, rispettivamente Il gioco del male, La ragazza scomparsa, Una morte perfetta e Linea di sangue, sono piaciuti moltissimo ed il sesto volume della serie, Le verità sepolte, del novembre 2019, si appresta a fare lo stesso. Tutti i romanzi sono incentrati sul personaggio della detective Kim Stone, ma sono comunque autoconclusivi. Veniamo alle verità sepolte. Durante un'esercitazione della polizia scientifica nella Black Country, vengono rinvenute delle ossa umane. Dal momento che la macraba scoperta coinvolge un appezzamento di terreno al confine fra due diverse giurisdizioni, la detective Stone è costretta ad abbandonare temporaneamente la sua squadra per partecipare ad un'indagine congiunta con il gruppo al comando di Tom Travis. La Stone e Travis, in passato, sono stati amici e colleghi, ma in seguito ad un qualche grave episodio risalente a cinque anni prima, sono ormai ai ferri corti ed il fatto di dover nuovamente lavorare fianco a fianco non piace a nessuno di loro. Trattandosi comunque di validi professionisti, i due investigatori si dedicano immediatamente al caso, che vede coinvolte tre vittime e due famiglie, quella dei proprietari e quella degli affettuari del terreno. Intanto, i ragazzi di Kim sono alle prese con un caso di suicidio e con diversi crimini di origine raziale che sembrano diffondersi a macchia d'olio nella regione di loro competenza. Bryant, Dawson e Stesi sono tutti e tre molto colpiti dall'ondata di violenza xenofoba. Stesi, in particolare, in quanto donna di colore vittima di bullismo durante l'adolescenza, si fa coinvolgere ben oltre il dovuto, tanto da approfondire alcuni aspetti senza neppure avvertire i colleghi. Quando alla fine le due indagini si intersecano l'una con l'altra, tutti gli investigatori coinvolti devono ingaggiare una vera e propria lotta contro il tempo, perché stavolta, a rischiare, è direttamente uno di loro e intervenire in tempo non sarà facile. Dunque, il nuovo romanzo della Marson si concentra sul problema del razzismo e, visti i tempi che corrono, qualunque lettore finisce con il sentirsi coinvolto quasi in prima persona. Il ritmo incalzante del racconto, l'immediatezza dello stile e l'abbondanza di dialoghi contribuiscono non poco all'inversione totale nella storia, tanto più che stavolta l'autrice non si sofferma neppure sulle consuete descrizioni della Black Country, date evidentemente ormai per scontate. Resta l'approfondimento psicologico che però si deduce più dalle azioni che non tramite vere e proprie riflessioni. L'intreccio è complesso ma non astruso e la storia si segue facilmente, fianco a fianco con gli investigatori, fatti salvi alcuni flashback relativi alle vittime che personalmente avrei tagliato. Un thriller di alto livello nel migliore stile Marson. E questo è tutto per la nostra recensione di oggi, ci rivediamo presto qui all'angolo della Libraia. Ciao!